Ciao Tommaso, oggi ti sei premiato per l'interpretazione del videoclip Non avere paura. Sì. Volevamo chiederti cosa ne pensi di questo connubio tra cinema e musica? Beh, è un connubio che per me è il connubio più solidale che c'è nell'arte in generale. Cioè, i film che ho amato, diciamo così, o che comunque tutte le persone amano, sono frutto anche di grandissime colonne sonore o di comunque grandissime canzoni che sono state emerse all'interno del film. E per noi è fondamentale, per me almeno per un fattore. Quindi io anche, da parte mia, sfrutto il videoclip per cercare di fare qualcosa anche di cinematografico. Ovviamente in tre minuti e trenta di canzone non è che puoi imparare qualsiasi cosa, però, insomma, è una cosa alla quale tengo particolarmente. Grazie. Ci fai un saluto a Maximi Italia? Un saluto di cuore a tutti i lettori di Maximi Italia e in generale a Maximi Italia. Grazie.